Doveva essere un trasferimento sicuro, tanto che alle due auto del Programma Alimentare Mondiale non era stata assegnata una scorta e invece alle 10 del mattino, le 9 in Italia, il convoglio è caduto in un'imboscata, un tentativo di sequestro. Media locali scrivono che sei uomini armati hanno bloccato le due auto e ucciso subito uno degli autisti, un uomo congolese. Hanno poi tentato la fuga nella foresta con gli ostaggi. Gli spari però hanno richiamato i ranger del parco, ne è nata una sparatoria durante la quale il carabiniere Vittorio Iacovaci è rimasto ucciso e l'ambasciatore Luca Attanasio ferito all'addome, trasportato in ospedale a Goma, è morto poco dopo. Nella zona dove è avvenuto l'attacco, rapine e sequestri, come avverte anche il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, sono molto comuni. Sui monti Viruga, al confine tra Congo, Ruanda e Uganda, operano infatti diversi gruppi armati, tra questi il più pericoloso è il fronte di liberazione del Ruanda. Più volte in passato, uomini della missione delle Nazioni Unite sono stati vittime di sequestri. Fonti locali attribuiscono l'attacco di questa mattina a una milizia di ribelli ruandesi che sono soliti superare il confine per compiere qui le loro razzie. Per questo l'ipotesi del sequestro al momento sembra prevalere su quella dell'attacco intimidatorio da parte della costola africana dell'Isis, comunque presente nella stessa zona.